buongiorno amici oggi vi faccio vedere come riutilizzo i semi che ho tolto alle prugne per fare la marmellata eccole qua questi sono i semi che ho precedentemente fatto essiccare oggi andiamo a fare un'acqua detox semplicissimo è un'acqua che serve per depurare rinfrescare l'organismo ricca di sali minerali ecco qua vedete amici io prendo 23 semi di quelli che ho fatto precedentemente essiccare li metto qua nell'acqua ci aggiungo del melograno melograno essiccata anche quello vedete che ho fatto precedentemente essiccare nel periodo quando c'erano i melograni aggiungo anche quello nell'acqua guardate che bello amici vedete il melograno essiccato poi utilizzo sia la buccia e sia i semini dentro andiamo a mettere anche la carruba amici la carruba è molto ricca di anti ossidanti e vitamina b ne prendo un pezzettino vedete amici secca e la metto anche quella nell'acqua ci aggiungo line io l'ho già tagliato eccolo qua raggiungo e ci metto dentro anche un rametto di rosmarino adesso chiudiamo amici tappiamo il tutto lasciamo in infusione nel frigorifero al fresco perché diventa un'ottima bibita dissetante rinfrescante è ricca di sali minerali provate dell'amici che è buonissima con questo è tutto alla prossima